La protezione civile ha diffuso un'allerta meteo di livello arancione nella Sicilia centro-meridionale. Ordinanza preventiva ad Agrigento. Gloria Scafè. La protezione civile ha diffuso un avviso regionale per allerta meteo livello arancione durante la giornata di oggi, venerdì 24 agosto. Di conseguenza il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, ha firmato un'ordinanza che a fronte delle avverse condizioni meteo previste, ovvero temporali e rischio idraulico per la zona centro-meridionale della Sicilia e isole Pelagie, vieta a tutta la popolazione l'utilizzo di aree pubbliche a rischio quali giardini pubblici, impianti sportivi all'aperto, aree giochi, sottopassi, nonché l'interdizione di locali interrati, semi-interrati e bassi. È prevista inoltre la sospensione di tutte le manifestazioni commerciali su strada e in aree pubbliche a causa delle avverse condizioni meteorologiche, con livello di allerta classificato arancione e con fasi operative di preallarme. È inoltre consigliato evitare il transito pedonale e veicolare nelle zone già precedentemente interessate da fenomeni di allagamenti ed esondazioni con riguardo particolare al villaggio Mosè, zona via dei fiumi e viale Leonardo Sciascia, San Leone, sponde del fiume Acragas e viale delle Dune, fiume Naro, fiume Ipsas nei pressi dell'incrocio con la strada provinciale per Favara e la statale 640, fiume Drago nei pressi di Contrada Borsellino, la strada provinciale 1 e relativi ponti di attraversamento usando percorsi alternativi. Il rischio maltempo è previsto anche nel nord Italia a partire da questa sera a causa dell'avvicinarsi di una intensa perturbazione nordatlantica che causerà numerosi temporali. Questo fronte temporalesco metterà fine al caldo intenso soprattutto nelle regioni settentrionali, mentre al sud la diminuzione sarà più contenuta, favorita però da un rinforzo dei venti settentrionali tra domenica e l'inizio della prossima settimana.